Anche a Cagliari questa mattina si è svolta a ViviCittà la manifestazione podistica amatoriale in contemporanea con altre città del mondo. L'uguaglianza è in gioco, il tema della 36esima edizione della manifestazione patrocinata dal comune di Cagliari e della WISP. Nata nel 1983 non si è più fermata meritandosi la definizione di corsa più grande del mondo perché è aperta a tutti abbracciando atleti professionisti e sportivi della domenica che si sono cimentati nella parte competitiva di 10 km e in quella ludico-motoria di 5 km nel percorso cittadino con partenza e arrivo da piazza Garibaldi.